Tutto il calcio aveva tra i 20 e i 25 milioni di ascoltatori, cifre da capogiro che mai la televisione ha nemmeno raggiunto. Per me è stato un modello di vita, vorrei dire, forse esagerando un po', perché io sono stato prima di tutto un ascoltatore quando ero un bambino. Avevo 8 anni quando già ero in sintonia con la radio e con le voci che raccontavano il calcio e grazie a quelle voci mi sono innamorato del calcio e anche della radio, sognando di fare un giorno quello stesso lavoro. E poi la professionista, la giornalista che ha avuto l'onore, il privilegio di far parte di questa straordinaria squadra, cominciando quando c'erano ancora Ameri e Ciotti. Io devo dire che questa trasmissione mi ha insegnato a stare al mondo, perché credo che vivere dentro tutto il calcio significa anche capire un po' come ci si deve relazionare con gli altri, perché tutto il calcio è una trasmissione fondamentalmente fatta da squadra, un gioco di squadra, esattamente come direbbe Sacchi, dove ognuno ha la sua qualità e la deve mettere a disposizione della trasmissione degli ascoltatori. Io sono di una generazione che ha dovuto vivere il calcio soltanto dalla radio. Quando ero ragazzino io, la domenica non era possibile avere alcuna informazione di alcun tipo prima del momento in cui Roberto Burtoluzzi, dopo la sigla, apriva la trasmissione e dava la voce e la linea ai colleghi che erano sui campi. Tra l'altro cominciando dal secondo tempo. Il primo tempo non si è trasmesso fino agli anni Ottanta, per una ragione che può far sorridere, ma che all'epoca era seria, e cioè che la trasmissione integrale di tutte le partite, secondo la federazione gioco-calcio, che era detentrice dei diritti all'epoca, non c'era ancora la Lega, sosteneva che sarebbe stato insidioso, pericoloso per la presenza del pubblico negli stadi. Sostanzialmente si temeva che la gente fosse incoraggiata a rimanere a casa, ad ascoltare tutto il calcio, alziché andare allo stadio. Ma considera pure che parliamo di anni, quelli dal Sessanta fino agli anni Ottanta, primi anni Ottanta, nei quali tutto il calcio aveva tra i 20 e i 25 milioni di ascoltatori, cifre da capogiro che mai la televisione ha nemmeno raggiunto. Quindi è chiaro che chi è vissuto come me in quegli anni ha immediatamente messo in sintonia il calcio e la radio. Non c'era calcio senza la radio. Io credo che la radio possa vivere ancora felicemente, sta vivendo il suo presente, come ha vissuto bene il suo passato, ma credo che possa vivere anche bene il suo futuro. Anche perché i social alla fine sono molto vicini, diciamo così, all'idea di radio. La radio è un mezzo antico, ha più di 90 anni come sai, ma probabilmente non è vecchio, perché ha sempre avuto, fin dagli anni antichi, l'intelligenza di capire che la gente va coinvolta. La partecipazione ai programmi radiofonici è una cosa che risale agli anni 50, cioè quando all'epoca non c'era ancora la televisione, ma già alla radio era possibile parlare al telefono con gli ascoltatori, gli ascoltatori potevano entrare nella radio interagendo con la radio. Tutto il calcio nasce dall'idea di raccontare in contemporanea più partite di calcio, questo è il punto centrale. Negli anni in cui si giocavano tutte le partite alle 14.30 ovviamente tutto il calcio era centrale. Oggi è cambiato tutto, dagli anni 90, nei primi anni 90 in poi, dall'avvento delle televisioni a pagamento tutto è cambiato, perché ci sono gli anticipi, i posticipi. Si gioca dal venerdì a lunedì e la domenica sono rimaste poche partite. L'ipotesi, quella che io non mi auguro, perché non me l'auguro da innamorato di tutto il calcio, che un giorno non ci fossero più partite in contemporanea, ma anche alla domenica ce ne fosse soltanto una alle 15 e tutte le partite si giocassero separatamente, lontani una dall'altra, è chiaro che a quel punto tutto il calcio, diciamo, nella sua forma originale, dovrebbe cessare. Ovviamente la radio, mi auguro, continuerà a raccontare tutte le partite. Potremmo cambiare il lume della trasmissione, non più minuto per minuto, ma giornata per giornata, o partita per partita. Mi auguro soltanto una cosa, che quando avrà celebrato il centenario tutto il calcio resista. Come ho detto, quando chiusi il mio lavoro al microfono, quella domenica di febbraio a Milano, dopo Inter Empoli, mi auguro che il calcio esista ancora. Guarda, io sono convinto, l'ho detto quel giorno e lo ripeto a tre anni di distanza, finché esisterà la passione della gente, esisterà il calcio. E finché esisterà il calcio, esisterà la radio. L'importante è non disperdere questa passione. Spero che nel futuro questa passione non venga minata, non venga ferita da un eccesso di affarismo, quello che troppo spesso, purtroppo, si deve emergere nel calcio moderno. Grazie. 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 Grazie.